Siamo tutti un po' lasciati, siamo tutti un po' perduti, però io sono qui a dare un senso a questo movimento di questa terra che gira intorno a 300 km al secondo. Cosa posso dirti? Cosa posso fare? È bello lasciare andare per sempre la testa in fondo al tuo cuore, perché questa corrente che mi porta pesante come fosse una costante di gravità basterebbe ritrovarci al di là di questi passi come se non ti fosse mai dato un tentativo ulteriore. Ormai quattro generazioni sono passate e siamo tutti qui a dare un po' di estate a questo impegno, a questo momento fragile nel quale siamo io e te, io e te, io e te, io e te. Non ho altri metodi per poterti raccontare ciò che è nascosto dentro questa testa, che è nascosto dentro questa testa, è la stessa movimento con la quale cerco di darti un po' di sostegno morale. Io so che talvolta è molto difficile di nuotare in questa acqua nella quale talvolta cerchiamo di affogare, ma non ci riusciamo mai, perché è vero, la vita è sempre così grande, immensa, e non si sa dove ci porti davanti a questa finestra, finestra. Ma tra me e te è solo un dialogo personale, molto intimo, nel quale ci siamo seduti insieme a questa tavola e stiamo parlando veramente da cuore a cuore. Io ti dico ciò che in questo istante esce così come uscirebbe da una cascata, da un pensiero globale, nel quale ognuno possa dire... Siamo umani, siamo umani, siamo umani, io e te, io e te. Siamo umani, siamo umani, siamo umani, io e te. Siamo umani, io e te.